cari amici cari amiche c'è bisogno di voi di noi di noi marchigiani perché il servizio sanitario regionale sta in sofferenza e bisogna fare una piccola donazione quello che si può è quello che si può bisogna donarlo perché servono delle risorse per contrastare questa emergenza del coronavirus i nostri medici i nostri infermieri si stanno dando da fare tantissimo però dobbiamo fare qualcosa in più anche noi oltre che rispettare le regole se riusciamo facciamo una piccola donazione alla regione marche per il servizio sanitario regionale grazie ciao a tutti sono saturnino sono ascolano sono marchigiano sono italiano anch'io sostengo la campagna di raccolta fondi della regione marche a favore del servizio sanitario regionale mi raccomando fatelo anche voi ciao sono morizio compagnoni sono marchigiano e volevo fare un appello ai miei co-regionali quello di aderire all'iniziativa della regione marche per sostenere attraverso un contributo economico il nostro servizio sanitario regionale in questa difficile emergenza per il coronavirus e sono sicuro che con l'aiuto di tutti ce la faremo grazie ciao a tutti siamo francesca e veronica felippa noi marchigiani ci siamo uniti per le nostre marche per sostenere la sanità della nostra regione che in questo momento ha bisogno dell'aiuto di tutti noi ogni giorno i nostri medici infermieri combattono una sfida cruciale e allora sosteniamoli anche con un piccolo gesto e facciamoli capire quanti immensa gratitudine abbiamo per loro forza marche forza italia uniti noi saremo più forti che mai ragazzi sono carlotta e vi chiedo con tutto il cuore di dare un piccolo contributo a sostegno dell'apparato sanitario della mia regione le marche fate suoi pap e donate anche voi restiamo a casa viva le marche ciao a tutti sono filippo magnini sono pesarese sono marchigiano sono italiano anch'io sostengo la campagna di donazione della regione marche al servizio sanitario regionale fatelo anche voi ciao sono savere marconi amo le marche e vivo nelle marche e sostengo la campagna di donazione della regione marche al servizio sanitario regionale facciamolo tutti grazie questo virus è un mostro il nostro servizio sanitario regionale sta cercando in ogni modo di combatterlo io credo che sarebbe fondamentale se ognuno di noi a seconda delle proprie possibilità desse il proprio contributo facciamolo per la nostra terra facciamolo per i nostri cari facciamolo per i nostri non grazie ciao a tutti io sono simone riccioni e volevo dirvi che dobbiamo sostenere la surmarche diamo una mano alla nostra sanità marchigiana per combattere questo coronavirus doniamo 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 ciao un saluto reti twins come avete visto a pequeno express siamo due giramondo ma in questo momento anche noi abbiamo deciso di restare a casa rockies le marche la nostra regione che portiamo sempre nel cuore ha bisogno di noi, in particolare l'Asur regionale. Quindi fate swipe up qui nel link e aiutiamo la nostra regione. Insieme siamo imbattibili, non si muola mai. Vamos! Ciao, sono Natascia Stefaninco, vivo nelle Marche, esattamente a Sant'Elpidio a Mare. Anch'io sostengo la campagna di donazione delle regioni Marche al servizio sanitario regionale. Fatelo anche voi, perché insieme possiamo fare la differenza. Ciao amici, sono Tinto, conduttore di Decanter su Rai Radio 2. Allora, quando le Marche chiamano, Tinto risponde. Vi lascio questo hashtag, mettetelo bene in testa, per le Marche. Ciao ragazzi, sono su Vitor non bene, sono anch'io Marchigana, quindi vi do a sostenere la campagna di donazione al servizio del sistema sanitario regionale. E mi raccomando ragazzi, se saremo uniti, andrà tutto bene. Oggi i nostri eroi sono quelli che stanno dando tutto negli ospedali e non sono. Il grande cuore delle Marche batte per loro e con loro. È il momento di dire grazie e di fare la nostra parte. Fai il suo E-PAP e dal tuo contributo alla sanità marchigiana. Insieme vinceremo anche questa sfida. Sono Nicola Cerioni, sono marchigiano, sono italiano. Anch'io sostengo la campagna della Regione Marche per la raccolta fondi per il servizio sanitario regionale. Donate. Ciao a tutti, sono Beatrice e andrà tutto bene, ne sono certa, se siamo uniti e combattiamo insieme. Aiutiamo chi ne ha più bisogno. Facciamo una donazione ai nostri ospedali marchigiani. Viva le Marche! Ciao a tutti, sono Riccardo Prosperi, DJ e produttore. In prima persona, insieme alla mia azienda Mudivance, siamo qui oggi per sostenere questa importante iniziativa per il nostro territorio. Ora, uniti più che mai, supportiamo la nostra azienda sanitaria unica regionale. Un abbraccio virtuale a tutti e mi raccomando, restiamo a casa. Salve, sono Anna Rita Pilotti. Ora siamo chiamati a combattere questa nuova sfida. Dobbiamo essere uniti e solidari. Sosteniamo la campagna di raccolta fondi della Regione Marche per il servizio sanitario regionale. Tutti insieme ce la faremo. Forza Italia! Forza Marche! Sono un sanbenedettese, sono un marchigiano, sono un italiano. Anch'io sostengo la campagna di raccolta della Regione Marche a favore del servizio sanitario regionale. Mi raccomando, fatelo anche voi. Donate! Ciao a tutti, io sono Valentina Madonia e sono marchigiana. In questo periodo un po' particolare c'è davvero bisogno dell'aiuto di tutti quanti noi. Quindi fate come me e sostenete la campagna di donazione della Regione Marche al servizio sanitario regionale. Mi raccomando! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!